Laura sa che il rischio in finanza è legato all'incertezza del rendimento del suo investimento. Si domanda se ci sia un modo per confrontare il rischio di investimenti diversi. Posso misurare la rischiosità di un investimento? Certo. Un modo per misurare il rischio di uno strumento finanziario è fornito dalla sua volatilità, parametro che fornisce un'indicazione della variabilità del rendimento di un titolo nel corso del tempo. Il rendimento è espresso in percentuale, si calcola sempre rispetto ad un dato periodo di tempo ed è definito come la variazione del prezzo del titolo tra l'inizio e la fine del periodo, diviso per il prezzo d'inizio e periodo. Possiamo calcolare i rendimenti annui, mensili, settimanali e giornalieri. Questo ragionamento mi sembra un po' complicato. Puoi farmi un esempio? Certo. Consideriamo un titolo che, chiamiamo A, che nel 2015 ha registrato i rendimenti mensili riportati in questa tabella. A gennaio il rendimento mensile è stato del 2%, a febbraio dell'1%, a marzo dell'1,5% e così via. Il rendimento medio osservato storicamente è pari alla somma dei singoli rendimenti diviso per il numero dei mesi considerati, 12 nel nostro caso. Facendo i conti, ottieni un rendimento medio mensile dell'1%. Questo è quello che è accaduto in media nell'ultimo anno. Non abbiamo ovviamente la sfera di cristallo, ma questo valore può darti anche una buona indicazione su quello che sarà il rendimento medio in futuro e quindi il rendimento atteso del titolo. Calcoliamo adesso gli scostamenti dei singoli rendimenti mensili rispetto al rendimento medio e eleviamoli al quadrato. Per gennaio otteniamo 1, per febbraio 0, per marzo 0,25 e così via. Se infine calcoliamo la media dei valori così ottenuti e ne facciamo la radice quadrata, trovi la volatilità mensile dei rendimenti. Nel nostro caso otteniamo il valore 1,17%. Questo dato fornisce un indicatore di quanto il rendimento del titolo si è discostato dal suo valore medio nel 2015. Tanto più il rendimento si discosta dal suo valore medio, tanto più è elevata la sua volatilità e tanto più il titolo è considerato rischioso. Non occorre che tu calcoli a mano il valore. Trovi la volatilità di un titolo su internet o sulla stampa specializzata. Quindi devo guardare alla volatilità di un titolo per capirne la rischiosità? Sì, ti faccio un altro esempio. In questo grafico è rappresentata l'evoluzione nel tempo del prezzo di due diversi titoli. La linea blu rappresenta il prezzo di un titolo molto variabile che determina un elevato valore della volatilità e quindi una maggiore rischiosità. Puoi guadagnare o perdere in misura significativa dunque. La sua volatilità è infatti 1,35%. Invece la linea rossa rappresenta il prezzo di un titolo dal rendimento più stabile, cioè con una minore volatilità e di conseguenza meno rischioso. La sua volatilità è infatti 0,33%. Posso anche dire che a parità di rendimento medio dovrei scegliere il titolo con volatilità inferiore? Sì, se si avversa il rischio è una buona strategia. Attenzione però, la volatilità può non essere una misura adeguata per misurare il rischio del titolo in quanto non distingue tra perdite, cioè rendimenti negativi, e guadagni, cioè rendimenti positivi. I più recenti studi sull'atteggiamento nei confronti al rischio da parte degli individui suggeriscono che una misura dell'avversione al rischio di un individuo sia fornita da quanto costui è disposto a perdere con una data probabilità. Per l'investitore il rischio riguarda soltanto le situazioni in cui i rendimenti sono negativi. Per molte persone rischiare significa infatti perdere denaro o rendimenti negativi, mentre i rendimenti positivi o superiore al valore medio sono considerati piacevoli sorprese. Come faccio ad avere un'idea di quanto è probabile subire una perdita in un investimento? Ecco un esempio semplice per farti comprendere quanto sto dicendo. Supponi di registrare giorno per giorno i rendimenti in un titolo azionario. In questo caso il rendimento si dice giornalista, e si ottiene come prezzo di oggi meno prezzo di ieri diviso per il prezzo di ieri. Immagini trovare i seguenti dati. Lunedì 5%, martedì meno 2%, mercoledì 1% e così via fino a venerdì. Visto che la probabilità di subire una perdita si calcola rapportando i giorni in cui si registra una perdita a tutti i giorni che stiamo considerando, ed in questo caso sono 2 su 5, avremo una probabilità di perdita, cioè di avere rendimenti negativi, pari al 40%. Perché? Perché la probabilità di perdita è ottenuta dividendo il numero di casi in cui il rendimento è stato negativo per il numero totale di giorni. Tanto maggiore è la probabilità di perdita di un investimento, tanto maggiore sarà il rischio del titolo. Quindi, un titolo che ha avuto un rendimento negativo nel 40% dei giorni nell'ultimo mese è più rischioso di un titolo che ha avuto un rendimento negativo nel 20% dei giorni. Ti ringrazio, Emilio. Ma c'è un modo per ridurre il rischio dei miei investimenti e più in generale del mio patrimonio? Certo! Puoi farlo investendo su un portafoglio di titoli anziché su un singolo titolo. Bene! Ti ringrazio per le tue spiegazioni. Grazie a tutti!